Petto di pollo al vino bianco e funghi Questa ricetta è un'ottima scelta per un pasto sfizioso e ricco ma allo stesso tempo leggero. Il petto di pollo, cotto al vino bianco e funghi, è una portata saporita e semplice da preparare. Per preparare il petto di pollo al vino bianco e funghi inizia con l'elenco degli ingredienti. 4 fette di petto di pollo 1 cipolla 200 g di funghi porcini 200 ml di vino bianco 2 cucchiai di olio extravergine di oliva Sale e pepe cubi Procedi con la preparazione del petto di pollo al vino bianco e funghi. In una padella antiaderente con l'olio extravergine, soffriggi la cipolla tritata finemente. Aggiungi i funghi porcini tagliati a fette sottili. Fai dorare i funghi e poi versa il vino bianco. Inserisci le fette di petto di pollo e lascia cuocere per 10 minuti. A cottura ultimata, aggiusta di sale e pepe e servi il petto di pollo al vino bianco e funghi ben caldo. Aggiungi i funghi per 1.500 g di pollo al vino bianco. Aggiungi i funghi per 1.500 g di pollo al vino bianco. Grazie a tutti.